La mela, un frutto che accompagna la storia dell'umanità sin dalla notte dei tempi. Simbolo di gioia, tranquillità, prosperità e seduzione. È nel 1914 che i Vivi Stark registrano questa particolare varietà, la Golden Delicious. La sua selezione è avvenuta negli Stati Uniti d'America ed è dovuta essenzialmente al caso. Fu notata, per il suo piacevole aspetto, sul finire dell'Ottocento, da un certo Andrew Mullins, intento a lavorare nel proprio orto. Tra le migliori Golden Delicious, quelle della Val Venosta. E adesso andiamo a degustare. La mela Golden Delicious della Val Venosta è caratterizzata da una forma tondeggiante, buccia color giallo-oro, più o meno rugginosa, spesso caratterizzata dalla tipica faccetta rossa. È aromatica, profumata. All'assaggio si presenta croccante, consistente, dolce, delicatamente aspra e succosa. Ed è anche assaggiando una mela Golden Delicious della Val Venosta che riusciamo a essere più comprensivi con il buon Adam. Ed è un'esplice. 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 Ed è un'esplice.